però puoi chiamarla gg mid 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 dai io tiri o ti rivedo la c***a s'arrabbiato io lo baciavo pure in faccia è che ho un po' di paura adesso a leggere ho un po' di paura più di perdere tempo madonna peccato che c***o sabato va bene ci sta ci sei sabato sei presente oh è una lobby un po' più al tuo livello no ok ho capito troppo alta quella è troppo impegnativa vero ma allora ci mettiamo d'accordo per chi va a tirare o I got it take the shot I got it tu va a meta se riesci ok qui non posso andarci mid molto rischioso questo tiro eh no Davide è con i sub non con i follower però per fortuna voi avete il prime potete tranquillamente farla gratis gratuitamente in caso quando farò quando giocherò le ranked con i con i mate con i sub sorry qui vedi le moto del pagliaccio dovresti in teoria così non devi nemmeno scaricare roba lo vedi direttamente subito easy ciao Vincenzo tutto bene stexito tutto bene tutto bene dai tutto bene a parte alcune partite anzi tutte le partite nel ranked che si stanno facendo schifo ma di uno schifo assurdo ma veramente assurdo come si chiama la place? non ha un nome l'ho creata io però puoi chiamarla GG puoi chiamarla GG se vuoi esiste anche lo screenshot ho capito ci sta anche quello lì ci sta esiste anche Instagram basta che vai sul tuo profilo eccetera eccetera io ho l'iPhone eh cos'ha l'iPhone dai dai subito 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 bravissimo nice questa è bella questa è veramente bella è vero che sono scesi praticamente tutti o comunque tantissima gente è scesa bravo non capisco perché su rocket ci siano queste robe qua è veramente un fenomeno da studiare questa roba qua dai o tiri o tiri dal c***o ok subito è gol dai no peccato se la sia portata giù il rosso terra c'è un tocco di Lucia qua vengo in porta peccato mate subito mid o tira peccato subito subito bravo bravissimo ancora peccato ciao Federico cos'è che ho sbagliato bello bello buono bel tiro bel tiro mui 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 buono let's go ci sei ancora già scama buono dai ah ci sei ancora non so perché mi è venuto in mente che avevo fatto l'invitazione stamattina tu sei arrivato buono buono let's go ciao buongiorno quanto tempo anche con te no dai forse nemmeno tantissimo eh si lascia il viso buono fake bravissimo tira buono no peccato boost mio subito mate attento ovviamente bravo vediamo il tocco di questo scemo madonna che dog proprio ci premo più che altro per come si incatta eccetera eccetera vale oh dio mio cava oh dio mio mi fa impazzire vale vale mui buono non tengo nitro oh dio mio peccato mate non farti superare bravo buono subito subito peccato oh nice let's go ok torniamo subito abbiamo dovuto avercela bravo non ho più tantissimo boost andiamo a prendere il boost di qua mate hai riesci ad andarci cazzo ti chiami bolcese non bolcesi scusami eh cioè è come essere inglese e spammare it's coming home cioè in poche parole ne è vero non ho boost mate riesci molto curiosa questa cosa di andare a prendere il boost over la palla no greve si è arrabbiato greve greve mi ha totalmente spiazzato un gero tyson mi ha spiazzato totalmente intanto mi capita mi è già capitato più volte tipo di scrivere take the shot non so così magari in un momento un po' in cui ma fa la passata in mezzo e i sounds e i sounds e cioè no mettilo come un altro vantaggio cioè non metterlo unito alle motte e tra parentesi punto esclamativo sounds magari anche porco due non ho capito perché fosse uno era a destra quell'altro è sponato ed è rimasto lì ci ho detto uno tornerà in porta quindi la tiro alta e vado così spiazzo il portiere ma in realtà cioè nessuno c'è andato cioè ma che riesci a buttarla di qua buono va bene e come se va bene e questo qui lo facciamo pure io lo facciamo pure in faccia sì perché dio ma non sono sceso ancora a 1630 guarda no 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 infatti ho detto guardate faccio una live un pochino più traiardata quindi dove parlo magari un po' di meno anche se alla fine non ci sto riuscendo non ci riesco proprio però ecco dove cerco un attimino di traiardare di più perché è molto imbarazzante per me portare un gameplay su twitch a 1600-1700 quando ho quasi sempre portato rlcs eccetera perché alla fine basta che prendi l'ssl basta che non ci sia nessuno cioè no non è vero basta che sei a 1880 per dirti ti trovo tranquillamente i 1930 930 per dirti quindi tranquillamente era il cs player ciao e almeno anche il contenuto per youtube no se no che c***o ho fatto una 2v2 ho trovato jib voi mi dite che c***o è jib e che c***o ne so ragazzi che c***o vi devo dire immagina basta che immagini tez è colpa mia già basta è colpa mia assolutamente assolutamente non è ok prendiamo il boost rimaniamo un attimo qua saltiamo perché questo qui vuole venire a demolirmi ho saltato un po' in ritardo ciao swick buongiorno madonna mia che scarso che sono avevo caricato tutto quanto ero lì ah è gol ok io non ho boost ma che io ah ok c***o non so magari hai creato il secondo account per trollare ah no non ti chiami va tu hai un eurone almeno su tutti quelli tutti quanti sul totale che funziona a differenza sua oggi l'ho trovato rimaneva fermo con me contro diventavo una bestia suprema un boss finale dio bono che fastidio trovarlo con me un fastidio guarda non puoi capire quanto ho trovato anche io guarda è una cretina va tu cox il pinch no non ci possiamo provare ok magari domani la prendi peccato bel clear vediamo se riesce a clearare pure ball chase che non so chi sia ma dopo gli dico tranquillamente di seguirmi su twitch no scherzo andiamo a raccattare polluer ok non sono riuscito a pinciarle il mio amico dovrebbe avercela greve questa buono ok metto venga gol nice ti è scritto 300 euro di monte premi da spendere sul sito adidas sul sito adidas visto che è il nostro sponsor ragazzi voi dite adidas o adidas perché in realtà sapete che in inglese si pronuncierebbe adidas e non adidas aspettarebbe a sono in l'albanco è alla